Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento politico. Come sempre in queste settimane cerchiamo di conoscere i vari protagonisti di questa competizione elettorale. Ne conosciamo questa sera uno che saluto subito, Davide Rossi, buonasera, benvenuto. Che non è un novizio della politica, ha ricoperto anche cariche pubbliche a livello provinciale, è stato assessore provinciale se non sbaglio. Però ecco dopo un periodo diciamo così di washout è ritornato, si candida nelle file della Tua Fano, della coalizione che sostiene Lucia Tarsi. E quindi insomma Rossi adesso le chiedo immancabilmente la domanda quasi di rito, che cosa l'ha fatto lasciare la politica e cosa invece l'ha spinta a rimettersi nuovamente in gioco, in campo e per questa tornata elettorale. Io ho fatto l'amministratore pubblico per 12 anni, ho fatto l'assessore comunale alla cultura, ho fatto il vicepresidente della provincia e l'assessore alla cultura della provincia. In anni precedenti ho fatto anche il presidente della prima circoscrizione, quando esistevano, quella a centro mare. Cinque anni di stop, di pausa ci stanno. Io tra l'altro a differenza di molti politici non ho un posto di lavoro garantito nel pubblico, non sono un dipendente pubblico. Molti politici possono permettersi di andare in aspettativa, poi avere la garanzia che quando tornano c'è il posto lì pronto. Io mi sono dovuto guadagnare il pane nel mercato privato, l'ho fatto, così ho sviluppato ulteriori competenze, sono anche ulteriormente entrato nella vita comune dei cittadini di tutti i giorni, diciamo così. E quindi dopo cinque anni ritorno sulla scena politica con una candidatura a consigliere comunale, avendo in più, oltre che il bagaglio dell'amministratore pubblico, il bagaglio di una persona che ha continuato sempre a lavorare nell'attività privata. Quindi c'è stata un'reimmersione nel mondo della quotidianità che forse magari le ha dato la possibilità di percepire anche un po' le sensazioni. In questi cinque anni immagino che abbia un po' seguito, anche se defilato, quello che è stato lo sviluppo politico, sociale, economico della città di Fano e che quindi magari questa cosa le abbia rifatto venire la voglia di impegnarsi, immagino. Sì è andata così, in effetti è andata così. Dopo dieci anni di fila che facevo l'amministratore ho vissuto per cinque anni la città da cittadino semplice, da cittadino comune come tutti gli altri. E in questi cinque anni effettivamente ho visto che probabilmente, perlomeno secondo me, poi vedremo cosa diranno gli elettori, una competenza, una conoscenza della pubblica amministrazione e delle tematiche economiche, culturali e di sviluppo della città, secondo me ce n'è bisogno. Un po' in tutti gli schieramenti perché è vero che la novità è positiva, le persone nuove devono avere spazio altrimenti la politica la fanno sempre i soliti, però ci siamo accorti anche in altre città italiane che quando c'è un'improvvisazione, c'è solo l'improvvisazione, c'è solo la novità, poi dopo si fanno anche molti danni. Perché la pubblica amministrazione, amministrare un comune è una cosa complessa. Sappiamo che per tutti i mestieri occorrono competenze e esperienze e servono anche per il pubblico amministratore. Al di là della demagogia sul nuovismo, se ci si improvvisa, conoscere cos'è una delibera, sapere quali sono gli strumenti a disposizione dell'amministratore pubblico per sviluppare la città, ormai ho visto che ce l'avevano in pochi questi strumenti. Quindi ho pensato che io potessi con le mie idee e la mia esperienza portare un contributo positivo per quello che ho accettato e ringrazio la tua Fano di avermi dato questa opportunità. Anche perché poi conoscendo le dinamiche, al di là delle idee che si esprimono, si risparmia anche tempo, quindi è un procedere snelli, veloci, si arriva prima al risultato. Io dico che se la classe dirigente politica che amministra una città non è all'altezza, succede che l'amministrazione comunale diventa solamente una gigantesca macchina burocratica, dove i dirigenti per forza di cose danno il loro indirizzo e la politica va a rimorchio. Una cosa che ho notato in questi ultimi cinque anni è stata questa, mi è sembrato che l'attuale giunta, con tutto il rispetto possibile, però sia stata debole. Una politica debole, assessori tutti quanti che vanno in comune nei ritagli di tempo. Io stesso come cittadino quando ho dovuto interloquire con l'amministrazione era sempre fatica avere un appuntamento con l'assessore, perché magari in comune c'era un giorno sì e tre no. Ecco, io penso che invece la classe dirigente di un comune come Fano, che non è un piccolo comune, debba essere una classe dirigente qualificata e che ci metta passione e impegno nell'amministrazione. Bene, allora entriamo a piene mani sulle argomentazioni. Insomma, l'argomentazione regina di questa tornata elettorale, come lo fu? Immagino che lei l'abbia vissuto ugualmente. Allora la sanità ce la ritroviamo, tu cur, pari pari, ancora una volta sul piatto. Perché è una tematica così saliente, così impregnante le campagne elettorali fanesi? Perché a differenza di tutti gli altri temi, la sanità per forza riguarda tutti i cittadini. Tutti noi, o direttamente o tramite i nostri parenti, a che fare con la sanità ce l'abbiamo, ce l'abbiamo più o meno frequentemente. E tra l'altro va a toccare un aspetto molto delicato della nostra vita, che è quello della salute. Ovviamente con la sanità ci si interfaccia quando la salute non è al top. E quindi è un tema molto delicato che riguarda tutti i cittadini. Conseguentemente è giusto, soprattutto è giusto in una città dove si è messo in discussione l'esistenza dell'ospedale pubblico, così come a Fano. Quindi è giusto che se ne parli e io sono contento in questa occasione di poter dire la mia. Ecco, qual è la visione al netto delle battaglie campanilistiche? Si può riuscire a fare un sunto, al netto dei concetti, veramente un punto della situazione? Secondo me sì, io infatti non ho una impostazione campanilistica, anzi io penso, avendo fatto tra l'altro il vicepresidente della provincia, che le due città debbano andare a un dialogo, a un'integrazione su tanti temi, compreso quello culturale per esempio, compreso quello dello sviluppo urbanistico. Io non escludo che si possa andare anche nella direzione per esempio di un piano regolatore in qualche modo concertato fra le due città, così che ci sia uno sviluppo urbanistico, armonico e integrato. Quindi questo per dire che io non sono certamente uno del campanile, però sulla sanità, sull'ospedale il discorso è diverso. Sull'ospedale intanto possiamo constatare una cosa materiale e cioè che è un grossissimo affare questo dell'ospedale, è un affare che in una comunità locale capita una volta ogni cent'anni o forse più. E quindi io non vorrei che questo aspetto qui prendesse il sopravvento su quelle che invece sono le esigenze dei cittadini. È stato fatto un calcolo, in 30 anni l'ospedale nuovo costerà un miliardo di Euro di denaro pubblico. Quindi io non vorrei che la importanza di questi numeri facciano mettere da parte quelle che sono le esigenze dei cittadini veri. Sapete che si realizzerà nei desideri della regione attraverso la finanza di progetto, cioè vuol dire che è un privato che realizza l'ospedale, che la regione gli pagherà un canone per 30 anni e si farà carico anche di tutta una serie di altri onni della regione, tant'è che così come è congegnato questo contatto col privato è un po' troppo sbilanciato fuori del privato e quindi sarà un'operazione che da un lato metterà in circolo anche delle energie economiche, questo sarà positivo, però poi sappiamo i rischi in Italia di quando c'è un'opera pubblica di queste dimensioni. Quindi questo è l'aspetto materiale su cui bisogna fare una riflessione. L'altro aspetto è anche sul piano comunitario, spirituale, potremmo dire c'è una comunità come la nostra che è fatta di 63-64 mila abitanti, che è la terza città delle Marche, secondo me non è accettabile che non ci sia l'ospedale perché questo cosa significherà fra le altre cose? Intanto un grande disagio, specialmente per le persone più avanti con l'età, il tema della viabilità che dovrebbe collegare Fano al nuovo ospedale a Muraglia è un tema irrisolto al momento ed è pesante perché sappiamo che è un collegamento di viabilità che specialmente nel periodo estivo è molto problematico e quindi questo è un disagio oggettivo. Io poi in questo periodo, mio parente stretto per ragioni di salute è spesso in ospedale sulla chirurgia, mia madre che non guida deve continuamente essere accompagnata, deve essere ripresa, quindi sono anche queste cose di disagio concreto, quotidiano che non possono essere ignorate. E poi noi abbiamo la dignità per avere un ospedale nostro, noi siamo una città che non è possibile, io non accetto che non ci siano più nati a Fano ad esempio. Nella carta di identità nato a... Sì, cioè se non ci sarà più l'ospedale di Fano noi dobbiamo essere consapevoli che nessuno nascerà più a Fano, nessuno morirà più a Fano, nessuno verrà più curato a Fano. Può dire che questo non conta niente? Secondo me conta, perché una comunità ha anche un'anima e se in questa comunità non c'è più nessuno che ci nasce, che ci fa i figli, che si cura, che ha il rapporto diciamo così con la malattia nel suo territorio, nella sua comune, è una ferita molto molto grande. E noi, secondo me, chi si assume, i politici che si assumeranno questa responsabilità di chiudere l'ospedale di Fano, è una responsabilità che si porteranno dietro per cent'anni, è una responsabilità enorme. Noi, non voglio adesso sembrare troppo retorico, però noi abbiamo la responsabilità non solamente per i fanesi che ci vivono oggi a Fano, ma abbiamo la responsabilità dei fanesi che ci hanno vissuto, che non ci sono più e dei fanesi che dovranno nascere e che auspicabilmente dovranno continuare a nascere a Fano. Non possiamo distruggere la comunità in questo modo qua. Questo è un aspetto che nel dibattito sulla sanità, che lei giustamente diceva, essere molto acceso, però viene trascurato. Noi non siamo un piccolissimo comune dove queste tematiche magari non contano. Queste tematiche, secondo me, contano. Clinica privata sì, clinica privata no. L'altro argomento che entra, insomma, abbastanza prepotentemente nella discussione sanità. Allora, io non sono pregiudizialmente, ideologicamente contrario alla clinica privata. Io so che molti fanesi, già adesso che ancora c'è l'ospedale pubblico, si curano anche in cliniche private. In primis penso a quella di Cotignola, dove tantissimi fanesi sono andati a curarsi nel corso del tempo. Quindi, secondo me, non dobbiamo fare una battaglia ideologica contro la clinica privata. La clinica privata, se è un plus, se è un qualcosa di aggiuntivo che ci serve a migliorare le prestazioni sanitarie, secondo me è meglio che la facciano Fano, piuttosto che appesano che da altre parti. Quindi non metto in controposizione le cose. Però quello che mi sento di dire è questo, che qualcuno sostiene che l'ospedale nuovo e unico a Muraglia sia una partita già chiusa. Io dico che non è vero. Io sostengo che sulla base delle conoscenze anche amministrative e politiche che io ho e delle competenze che ho sviluppato, questo è un processo che si può ancora fermare. E io l'impegno che prendo, se gli elettori mi voteranno, se mi consentiranno di essere eletto consigliere comunale e di mettere la mia grinta, la mia energia, la mia determinazione, che credo sia nota, nel impedire che questa cosa avvenga. È un processo ancora molto lungo, molto complicato, io me lo sono già studiato. Il processo si conclude in un arco di tempo ancora di diversi anni e il progetto del project financing, si chiama così, il coinvolgimento del privato nella realizzazione di questa opera è una cosa molto delicata che ho già visto che ha molti punti deboli e che quindi si può ancora con una mobilizzazione dell'amministrazione comunale bloccare. Tra l'altro il prossimo anno si vota anche in Regione che ovviamente la Regione ha la principale competenza sull'ospedale e sulla materia sanitaria, infatti l'operazione di ospedale unico è fortemente voluta dall'attuale Presidente della Regione e se cambia anche lì il Governo, come sembra, allora quella è un'operazione che si può bloccare. Bene, tema sanità affrontato e sviscerato in ogni aspetto, diciamo abbiamo capito Rossi che le leve per spostare un po' gli aghi delle bilanze ci sono quindi questa è un'argomentazione ancora sensibile, i giochi non sono chiusi appunto e ci si può impegnare perché le cose cambino in questo senso. La ringrazio per questo approfondimento a tema sanità, noi ci incontreremo altre volte, esprimeremo altri concetti sul suo movens politico per questa candidatura. Grazie di essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito da casa per questo ulteriore approfondimento politico ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.